Un grosso ramo dell'imponente quercia situata nel centro del parco Dante Meaglia, parco del Castello Malgrà, si è spezzato nella notte di martedì 27 agosto cadendo in parta terra. Il ramo, grosso e pesante dal quale partono ulteriori rami e uno spesso fogliame, si è piegato all'edosso della panchina. Fortunatamente, essendo successo di notte, quando il parco è chiuso al pubblico, non sono stati registrati i feriti. Sul posto sono intervenuti i cantonieri comunali che, dopo aver messo in sicurezza l'area, hanno iniziato il taglio e la rimozione. Le condizioni delle piante del parco erano state verificate nel 2018 da un agronomo su richiesta dell'allora amministrazione comunale, Amministrazione Rostagno, ma i venti forti, che ultimamente stanno imperversando, devono aver danneggiato il ramo della storica quercia. Grazie a tutti.